buongiorno a tutti e bentrovati oggi faremo i cookies al cioccolato ok per prima cosa andiamo a sbattere il burro e lo zucchero per che il nostro burro e lo zucchero siano ben amalgamati andiamo ad aggiungere i tuorli d'uovo una volta mischiato il tutto il nostro impasto dovrà risultare così e possiamo aggiungere il nostro polvere una volta che il nostro mix sia ben amalgamato possiamo aggiungere il cioccolato mischiato il tutto questa è la consistenza che dovete avere e faremo dei salamini ora da far riposare in frigo una volta raffreddato il nostro mix possiamo tagliarlo non preoccupatevi se il mix risulta troppo non dovete cuocerli tutti potete anche metterlo in freezer il salamino così e tagliarlo quando volete metterlo in teglia e cuocerlo messi i nostri cookies sulla teglia possiamo infornare a 160 gradi per 10 12 minuti una volta raffreddati di solito vi dico come degustarli con cosa mangiarli questi mangiatele basta ok ragazzi se vi è piaciuto il mio video iscrivetevi al canale dovrebbe esserci la mia faccia qua sotto rotonda oppure guardate i miei prossimi video i miei video più popolari date un like scrivete un commento ditemi cosa ne pensate ciao ciao